Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno della tua vita. Auguri per i vostri 40 anni di attività da tutto lo staff. A ritirare questa targa un emozionato Giovanni Positano, che 40 anni fa, insieme alla moglie Maria Grazia, mamma Rosa, inaugurava il suo ristorante, La Chioccia d'Oro. Era il 14 febbraio del 1979. 40 anni di sacrifici e di altrettante soddisfazioni che oggi Giovanni condivide con la figlia Rosa. Una bella storia che vogliamo raccontarvi nel giorno dedicato agli innamorati, perché quello della famiglia Positano è un grande amore verso il proprio lavoro, dedito alla valorizzazione della gastronomia cilentana. Auguri allora Giovanni, ci uniamo ai tanti complimenti che negli anni hai ricevuto dai tantissimi clienti che hai ospitato nel tuo ristorante e perché no, anche dai tanti VIP, rimasti incantati dalla tua professionalità, ma soprattutto dalla tua genuinità e simpatia. E in questo giorno di festa e di emozioni, ci uniamo allora alle parole di un tuo grande fan, il cantante Franco Fasano. Io quando ero vicino Salerno, e mi è capitato anche di cantare a Vallo della Lucania, ho scoperto un ristorante che mi ha fatto sentire a casa. Questo ristorante si chiama La Chioccia d'Oro e quest'anno compie 40 anni. Beh, che dire, 40 anni è già una bella danno. Adesso sono un po' cambiato da così, però tutto sommato va bene. Speriamo di incontrarci ancora e tanti auguri alla Chioccia d'Oro. E andiamo avanti con la nostra informazione, con un gradito ospite nei nostri studi, ci ha raggiunto Rosa Positano. Rosa, grazie a te. Ciao Carmela, buongiorno a tutti, ciao. Ben rientrata innanzitutto, ecco, direttamente da San Rimo, l'abbiamo vista durante la settimana del festival, la nostra corrispondente, parleremo di San Rimo tra qualche istante, perché insieme a Rosa vogliamo celebrare un grande amore. Non a caso oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, ma noi vogliamo, come dire, festeggiare un grande amore, quello che da 40 anni lega la famiglia Positano alla ristorazione, perché esattamente il 14 febbraio del 1979 inaugurava il suo ristorante insieme alla moglie, la signora Maria Grazia, Giovanni Positano, la Chioccia d'Oro. Oggi sono esattamente 40 anni e la regia ci sta già proponendo le foto di quel momento storico. Rosa, tu non c'eri ancora, così svegliamo anche che hai meno di 40 anni, però, come dire. Vado vicina, però. Hai condiviso la tua vita con questa bella realtà, la Chioccia d'Oro. Sì, 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 ci sono nata. Ci sono nata, sono nata nell'83, quindi il ristorante cominciò a prendere piede in quegli anni. e diciamo che poi inevitabilmente qualsiasi scelta io abbia fatto prima di decidere in maniera definitiva di tornare qui nel Cilento e quindi prendere parte in maniera integrante all'attività di famiglia, ci sono state tutte queste casualità che mi hanno sempre riportata qua. Per quanto, insomma, abbia fatto tante cose. Se volevi distrarti un po', poi inevitabilmente. Qualsiasi cosa mi riportava qua, quindi poi qualche disegno esiste, quindi... Era destino, insomma. Beh, insomma, approfittiamo della tua presenza per fare i nostri auguri, ma anche complimenti ai tuoi genitori, perché portare avanti per 40 anni una bella attività con successo non è facile, un bel messaggio anche per i giovani, insomma, c'è tante difficoltà a realizzarsi in questo territorio, però la vostra storia racconta che, come dire, l'impegno, la tenacia, la professionalità e anche la condivisione territoriale riescono a far raggiungere importanti risultati. Tanti sacrifici, Rosa. Tantissimi. Ancora oggi. Ancora oggi, perché poi, in effetti, è un'attività, non tanto per quanto mi riguarda, perché a me danno molto spazio per poter fare anche altro, però sempre molto costruttivo per poi, insomma, applicarlo nella quotidianità della nostra attività. Quindi, insomma, mi occupo anche di tante cose sull'enogastronomia, ma poi, insomma, cerco sempre di riportarlo qui nel nostro ristorante. Più che altro la mia mamma e ancora prima le mie nonne, i miei nonni, quindi in generale, insomma, loro hanno investito tutta una vita per questo sogno che poi, insomma, si è realizzato. Sì, sì, sì. Ecco, perché piace tanto, insomma, non solo la cucina, ma la realtà chiocciadoro? Ma la realtà chiocciadoro, in effetti, appunto, come, insomma, oggi, nella dimostrazione, è una delle attività più storiche del nostro territorio. Sicuramente è la qualità delle materie prime, quindi questo ha portato a far sì che comunque ci sia stata una bella evoluzione, che ci sia stata una bella fidelizzazione poi dei clienti, che nel corso degli anni hanno deciso sempre di venire a trovarci. E poi, tra l'altro, è un'attività molto bella, perché, in effetti, è quella che tu parallelamente vivi le vite positive delle persone. Quindi tu partecipi indirettamente, quindi tendi a far sì che ogni evento di ogni, diciamo, famiglia riesca al meglio, e quindi partecipi, anche se non sei di quella famiglia, in maniera circostante, a far sì che comunque sei sempre integrante a loro. E quindi è bello aver questo, perché vivi nelle situazioni positive delle persone. Poi, naturalmente, abbiamo anche, insomma, una mia amica, insomma, giapponesina, che è venuta a trovarci spesso. E nel senso che poi, inevitabilmente, come dicevo poco fa, è anche la costanza, il sacrificio, la determinazione, la voglia, insomma, di fare sempre meglio, che poi ha portato a far sì che comunque potessimo affermarci sul territorio. Ecco. Allora, se possiamo tornare un attimo alle foto di 40 anni fa, così le commentiamo insieme a te. C'è un giovanissimo Giovanni Positano con l'allora parroco di Novivedia, e quello qua, Don Carlo, il taglio del nastro con il sindaco, e poi, naturalmente, tanti concittadini, perché voi siete un po' al confine Travallo, Novi. Sì, diciamo che se usciamo fuori al cancello, siamo a Novi. Se invece torniamo dentro, siamo a Vallo della Lucania. Siamo un po' borderline di due paesi importanti, ecco, quindi... Ebbè, è un'emozione rivedere questi momenti. Il futuro, Rosa? 40 anni li abbiamo già, come dire, non dico archiviati, ma condivisi. 40 anni di storie li abbiamo già scritti. Sì, il futuro, io spero, insomma, di essere all'altezza di tutto ciò. Insomma, io sono sempre affiancata da loro, perché per me sono le colonne portanti di questa mia vita, soprattutto lavorativa. Noi trascorriamo anche 12-15 ore al giorno, eh. I contrasti ci sono, perché è inevitabile. È una grande famiglia, ecco, quindi... E tendo anche a ringraziare tutti i nostri dipendenti, che nel corso di questi anni hanno portato, insomma, il ristorante ad essere comunque un'attività florida, è sempre crescente. Poi tanti riconoscimenti, insomma. Eh, sì, diciamo, una grande soddisfazione, anche perché non siamo un ristorante di passaggio, ma un ristorante dove devi venire, per forza, in quanto ci troviamo comunque non proprio nella zona centrale, insomma, quindi a noi fa piacere, ecco, quindi siamo contenti. Oggi è una giornata, insomma, in cui si festeggia l'amore, l'amore in tutte le sue forme, come ti dicevo prima, e quindi anche l'amore per il lavoro, insomma, e per la famiglia, ecco, quindi sono tanti amori messi insieme, e quindi poi oggi partecipiamo anche a festeggiare le varie coppie che hanno deciso di partecipare a questa festa, sia personale, dell'amore e del ristorante insieme a noi. A chi dedichi questo momento, a chi dedichi questo grande amore, Rosa? Io questo amore lo dedico ai miei nonni, soprattutto a mia nonna Rosa, quale sono onoratissima di portare il suo nome e cognome, e diciamo lo dedico a loro, ecco, perché dall'assù ci guardano, e diciamo che l'energia e la forza che noi abbiamo quotidianamente è anche indotta da su. Quindi dedico a loro e poi io devo dire un grazie al mio papà e alla mia mamma, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato, insomma, possibile, ad un sogno incosciente di due 25 anni che hanno deciso, insomma, di fare questo passo e che poi, insomma, la strada è stata lunga, e quindi grazie, grazie, grazie veramente a loro e lo devo a tutti i clienti, insomma, che nella nostra, come ripeto, quotidianità ci scelgono e ci vengono a trovare. E quindi siamo veramente orgogliosi di tutto questo, lo dobbiamo, insomma, a tante situazioni, ma anche ai clienti, perché altrimenti tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie, grazie davvero Rosa, grazie davvero e complimenti. Grazie. Saremo poi, ne parleremo un'altra volta, perché dopo queste tue parole, insomma, rimaniamo con questa grande emozione per i 40 anni della Chioccia d'Oro, ci uniamo alle tue parole, come dire, cariche di emozione, ma anche di soddisfazione allo stesso tempo, di tanti bei momenti ancora da realizzare. Rosa, complimenti. Grazie Carmela, grazie a voi, grazie a tutti. Allora, su queste belle parole di Rosa Positano ci fermiamo, c'è un momento di pubblicità a fra pochissimo.